Questo censimento nel nostro gergo lo definiamo il censimento per le imprese, non necessariamente il censimento delle imprese. Perché? Perché vogliamo che questi dati siano in primo luogo utili alle imprese e il censimento deve disturbare il meno possibile le imprese stesse. Per questo invece che svolgere il censimento attraverso un questionario su 4 milioni e 200 mila unità teoricamente nel campo di osservazione faremo soltanto un campione di circa 260 mila imprese grandi, medie, piccole e in questo modo attraverso l'integrazione di questi dati con le fonti di natura amministrativa riusciremo da un lato a fare un quadro complessivo dettagliato a livello territoriale di tutti i settori economici, ma dall'altro cercheremo anche di capire meglio come le imprese si relazionano tra di loro, ad esempio guardando all'internazionalizzazione, alle reti di impresa, a come la gestione interna è cambiata rispetto a dieci anni fa. Quindi un censimento più piccolo apparentemente, ma molto più in profondità per riuscire a raccogliere informazioni che possano essere poi utilizzate anche per rilevazioni specifiche successive al censimento. L'Italia si caratterizza per un numero molto elevato di piccole imprese e se uno guarda da fuori questo dato sembrerebbe una frammentazione eccessiva. In realtà le imprese italiane hanno delle relazioni di cooperazione molto forti. Se non riusciamo a capire queste interrelazioni non riusciamo a capire il tessuto produttivo italiano. Dobbiamo anche ricordare che rispetto a dieci anni fa le nostre imprese sono molto più legate internazionalmente. Quindi queste relazioni tra imprese, sia quelle domestiche sia con quelle di altri paesi, è un elemento fondamentale per riuscire a capire come funziona il sistema produttivo, capire i punti di debolezza ma anche i punti di forza. Qui la tecnologia, la conoscenza condivisa, la possibilità di raggiungere ad esempio mercati internazionali attraverso una sinergia tra piccole e grandi imprese possono costituire fattori fondamentali per il rilancio del sistema economico italiano ed è per questo che queste informazioni sono così importanti. L'Istat produce ogni anno oltre 300 comunicati stampe e altre forme di diffusione. Molte di queste informazioni sono a livello macroeconomico, altre riescono a raggiungere un dettaglio settoriale o territoriale più spinto. È chiaro che il censimento riesce a dare una granularità dell'informazione molto forte ed è per questo che è così importante restituire alle imprese il più possibile queste informazioni per consentire alle imprese stesse di fare quello che si chiama benchmarking, cioè confrontare la propria situazione con quella delle imprese concorrenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti